E a causa del covid è morto il teatino Enrico Bletter, era il commissario tecnico della Nazionale di Softball, stava preparando la selezione azzurra alle prossime Olimpiadi di Tokyo. Si era ammalato circa un mese fa e deceduto all'ospedale San Salvatore dell'Aquila, aveva 62 anni. Nel softball italiano, Bletter era un'istituzione, prima giocatore di baseball con Pescara, Chieti e Villanova e poi da allenatore ha vinto praticamente tutto, Palmares ricchissimo, ora da CT della Nazionale Femminile, era campione d'Europa e proprio un mese fa aveva svolto l'ultimo stage a Pescara.